Ciao Goodlier, bentornato da Carlo. Ci aggiungiamo a parlare di una scheda molto importante, è il mio modo di vedere, la scheda Ethernet. Questa è la scheda che preferisco infatti, semplicemente straordinaria. Credo non sia un giudizio parziale ma oggettivo, ora capirei perché. La definisco così perché è l'infa vitale per il computer. Ma cos'è una scheda Ethernet? Innanzitutto, immagina il sistema idraulico del corpo umano. No, non è una battuta, mi spiego meglio. Intendo dire la circolazione sanguigna, le vene, i capillari insomma. Ogni noto ramifica quei tubicini che compongono appunto il nostro sistema idraulico fino a raggiungere e portare vita ad ogni cellula del corpo. No, non stiamo studiando anatomia del corpo umano, ma è solo per farti comprendere la potenza di questa scheda. Di fatto è un'interfaccia che, tramite cavo, permette ad un computer una connessione ad una rete. Ma a cosa serve? La porta Ethernet permette ad un computer di poter dialogare con il mondo esterno. Intendiamoci, oggi non è la sola interfaccia che lo permetta, ma è quella ancora maggiormente utilizzata soprattutto in ambito domestico o aziendale. Tramite questa interfaccia si ha la base per il collegamento ad Internet o ad una rete di computer. Quindi rende il PC vivo, proprio perché non è più una macchina statica fino a se stessa, come dicono gli inglesi stand alone, dove si trova l'interfaccia Ethernet. Di norma la trovi sempre sulla scheda madre, nella parte posteriore nei pressi delle porte USB, ma nulla vieta di acquistarne una parte, nel qual caso la vedrai presente tramite porta PCI nella parte inferiore del case. Come avviene però il collegamento? Dipende dall'uso che dovrai farne. Per un'accessa di Internet di un solo PC, potrai collegare direttamente la porta Ethernet, tramite un cavetto dedicato, anche detto cavetto LAN, al tuo modem router. Inserendo invece il PC in una rete di computer, che può essere chiusa o anche essa interfacciata verso l'esterno di Internet, collegherai il PC tramite sempre un cavetto dedicato ad un dispositivo detto hub. Il collegamento avrà sempre grazie alla scheda Ethernet. Quest'ultimo hub, dopo che un amministratore avrà creato tutta la rete di computer e configurata, gestirà l'accesso di ogni PC all'interno della stessa rete o ad Internet. E le prestazioni? La straordinaria affidabilità, che potrai tu stesso evidenziare, ha garantito a questa connessione un successo inaudito in termini di diffusione. L'altra caratteristica è la velocità raggiungibile da questa interfaccia. Nei computer, per così dire casalighi, le schede Ethernet installate permettono di raggiungere velocità massime di 100 Mbit al secondo, ma le attuali connessioni Internet via cavo telefonico raggiungono ipotetiche velocità di circa 10 Mbit al secondo in download, in scaricamento. In Italia, pochissime zone provider permettono di raggiungere tali velocità realmente. La mia stessa connessione a DSL, pur avendo un contratto di tipo flat a 7,2 Mbit in download, si attesta normalmente nella fascia compresa tra i 3 e i 5 Mbit al secondo, anche se ho a saltuare i picchi al di fuori di questi valori. Puoi anche testare gratuitamente la velocità di connessione alla rete, grazie ad alcuni siti, basta cercarli sui motori di ricerca. Saltuariamente utilizzo un test di velocità grazie al sito Speedtest. Accedendo al sito, premendo sul pulsante Begin Test e attendendo circa una trentina di secondi o poco più, potrai ottenere dei risultati di velocità in download e upload, ossia scaricamento di un file da un sito e caricamento di un file ipotetico sul sito stesso. Come detto ormai in maniera definitiva, ogni periferica necessita dei driver. Dopo aver collegato la scheda Ethernet al PC e avendolo acceso, automaticamente il sistema operativo riconoscerà la periferica e installerà i driver di comando della stessa. Dopodiché potrai utilizzarla per le tue navigazioni. Nella prossima lezione parleremo di raffreddamento. Ora, non mi resta che salutarti. Un forte saluto, ciao a presto da Carlo ed alla prossima!